della Elacs Viaggi, scritto Elux Viaggi di Piazza Dallò a Castiglione delle Stiviere. Bentornata tra noi. Grazie, buongiorno a tutti e poi facciamo anche buona Pasqua. Ovviamente, questo è poco ma sicuro, assolutamente, anche perché poi Pasqua è un periodo durante il quale si viaggia anche, quest'anno vedo diversi che stanno viaggiando, quindi le coordinate per interagire con noi, numero per mandare sms e messaggi whatsapp il 338 17 19 105, se volete telefonarci fatelo 037663 17 09 e poi siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Temporadio, quindi vi invitiamo a seguirci e a scriverci anche da lì. Allora, Elacs Viaggi, diversi tipi di viaggi, anche viaggi di lavoro e tanto altro, ma cominciamo col parlare di gruppi. Sì, soprattutto i gruppi che organizzo personalmente, che accompagno personalmente, ne abbiamo una bella carellata, perché abbiamo il 25 aprile, quindi prenotazioni entro martedì perché poi vediamo appunto se riusciamo a organizzare per il meglio, 25 aprile facciamo Trieste e il castello di Miramare, faremo l'entrata al castello, ci sarò io da accompagnarvi e il pullman da Castiglione per 79 euro. Ovviamente faremo anche una visita del centro di Trieste, molto bella come cittadina, molto bello anche il castello di Miramare. Il 14 maggio, come ogni mese, facciamo il nostro trasferta dai dentisti in Croazia, che io conosco personalmente da 20 anni, sto portando giù veramente tanta gente, oltretutto hanno su tutti quelli che sono i lavori tre anni di garanzia, quindi andremo appunto dai dentisti in Croazia il 14 maggio, la visita e la lastra sono gratuiti, il trasporto lo faccio io personalmente perché faccio anche da autista e diciamo che facciamo il fermo, faremo la partenza da Castiglione, Desenzano, Peschiera, Verona Sud. Il costo del trasporto sono 89 euro, come vi dicevo prima, la visita e la lastra sono completamente gratuiti. Il 21 maggio invece andiamo ancora alle isole Borrome, è molto bella come gita, molto bello il periodo per farla perché maggio è perfetto, traghetto privato per le tre isole, entrata all'isola madre e all'isola bella, ecco le audioguide, ci sarò sempre io da accompagnarvi, il bus è da Castiglione a 79 euro. Poi abbiamo pensato... Non pilota il traghetto, eh? No, però ogni tanto, anche quello, sul lago sì. Poi, quindi il lago Maggiore che è bellissimo. Molto, molto, veramente bella, sono bellissime le tre isole e quindi il periodo è veramente perfetto. 27 maggio faremo Merano e la principessa Sissi e qui faremo appunto l'entrata ai giardini, l'ingresso al castello, il viaggio sempre in pullman da Castiglione con l'accompagnatrice che sono sempre io, a 59 euro. Il 2 giugno invece ho scoperto, navigando su internet, la grande grotta che è vicina a Trieste, che è una cosa favolosa, veramente bella, una cosa nuova, è una cosa nuova che non abbiamo mai fatto, favolosa perché appunto sono questa grande grotta che esiste da 10 milioni di anni, faremo appunto una discesa, sono 500 scalini, ma veramente comodo, anche la passarella, ho messo anche delle foto su Facebook, è veramente comoda, non è faticosa, è adatta a tutti, anche a bambini, per chi vorrà, per chi vorrà si potrà fare una prova di scalata con degli esperti, ma poi da lì ci sposteremo col pullman e andremo a fare un aperitivo degustazione in una cantina molto molto bella, molto particolare, con il pranzo e anche qui bus accompagnatore, pranzo aperitivo, grotta, insomma una gitta per il 2 giugno devo dire molto bella, a 79 euro. Il 3 giugno visto che c'è il ponte invece ho pensato alle 5 terre, quindi bus accompagnatore, 5 terre, il treno per le 5 terre e insomma anche questo come periodo è perfetto e qui siamo a 59 euro. Il 10 giugno come ogni anno facciamo quello che è dal 10 al 17 giugno una settimana favignana dove andiamo a scoprire questa isola molto bella, dove faremo proente, gireremo anche in bici, faremo simare, ma accompagnerò anche un gruppo come tutti gli anni che fa quello che è il potere dell'energia femminile, ovvero sia abbiamo una coach molto esperta di Brescia che tra l'altro è stata qua ospite qualche anno fa, che farà appunto dei corsi di crescita personale al femminile. Io sarò presente per tutta settimana, anche per chi invece desidera venire a scoprire favignana, desidera venire a fare quello che è il mare di favignana e comunque scoprirla, io ci sarò e porterò appunto alla scoperta di quest'isola per tutta la settimana. Il programma e tutto quello che è il prezzo lo trovate sul sito eluxviaggi.com lì trovate appunto il bottone i nostri viaggi e quindi troverete anche tutto quello che abbiamo detto stamattina, alcuni non tutti perché alcuni sono stati in estemporanea proprio di questi giorni, ma lì troverete anche quello che faremo campagna costiera amalfitana dal 26 al 30 giugno, troverete un Budapest che facciamo dal 13 al 16 luglio in Pullman tutto organizzato con anche la guida con il Pullman, ci sarò anch'io ma ci sarà anche una guida esperta per appunto farci vedere quello che è Budapest, il programma completo lo trovate sul sito a 419 euro. Dal 23 al 26 luglio facciamo Monaco e i Castelli di Baviera anche qui con una guida del luogo che ci spiegherà tutto, sempre col Pullman da Castiglione o Paesi Limitrofi, questo a 490 e poi in aereo invece faremo Mosca e San Pietroburgo dal 26 agosto al 2 settembre, anche qui con le guide, visite guidate, accompagnatrice, volo in aereo, Pullman là sul posto e oltretutto faremo quello che torniamo a fare dal 13 al 19 settembre New York e qui chiedo la prenotazione entro il 2 maggio sia per Mosca che New York, New York lo torniamo a fare con la sottoscritta che vi accompagnerà a scoprire questa splendida città a 1690 e qui per le prenotazioni dove c'è appunto un aereo ma anche per tutti gli altri gruppi dove c'è comunque un Pullman, un impegno di guide, alberghi, ristoranti perché i nostri programmi comprendono anche proprio il pranzo e il ristorante, vi chiedo appunto di prenotare quanto prima, almeno un paio di mesi prima, dopo chiedo sempre chiamatemi perché se anche un mese prima insomma vediamo se c'è posto e se la quotazione non è cambiata ben volentieri che insomma più siamo meglio è più ci divertiamo. Esatto, però l'abbiamo fatto presente diverse volte per chi fosse poco esperto d'aereo che se prenoti un mese prima per una breve trappa per esempio capace di pagare un mese prima 300 euro se prenotavi due mesi prima ne pagavi 60 e invece è così. Assolutamente sì perché abbiamo anche dei voli, proprio ieri guardavamo un discorso di Miami prenotando tre mesi prima 6 a 500 euro, prenotando da qui al mese prossimo siamo già a 900 euro quindi insomma 400 euro non sono pochi, quindi prima prenotate meglio. Ci fermiamo un attimino con Sabrina Zorzi, titolare della Elacs, scritto Elux Viaggi di Casiglione con noi c'è Sabrina Zorzi, titolare della Elacs, scritto Elux Viaggi di Piazza Dallò a Casiglione delle Estiviere. Ovviamente invito gli ascoltatori a preparare carta e penna perché poi daremo anche le coordinate proprio per mettersi in contatto con la Elacs. Tra l'altro ci si mette in contatto di solito per appuntamento. Sì, andiamo su appuntamento, ormai è un anno e mezzo che lo facciamo ma questo lo ripeto non perché sono disponibile a qualsiasi orario, anche sabato pomeriggio alcuni sono venuti anche la domenica mattina vado su appuntamento perché voglio dedicare quei tre quarti d'ora, un'ora alla persona che ho davanti e spiegare bene quello che è il viaggio che andrà a fare soprattutto noi facciamo molti viaggi di nozze e facciamo anche le liste nozze sul nostro sito e i viaggi di nozze anche lì devono essere curati ma non solo quelli comunque anche chi viene vuole l'offerta last minute per andare via una settimana e magari spendere 400-500 euro come abbiamo in offerta, eccolo lì, così ma a me piace spiegare quello che trovano, dove vanno, cosa fanno, cosa possono vedere quindi vado su appuntamento per dedicare maggior tempo alla persona che deve partire quindi faccio in questo modo assolutamente è una cosa che molti hanno apprezzato perché c'è anche una questione di privacy e quindi insomma questo fa sempre piacere assolutamente allora tra poco andiamo, torniamo a parlare proprio delle offerte vostre però volevo leggere alcuni messaggi, sono di Carpenedolo, lei è guida? chiede Daniela no, io sono un'accompagnatrice, quando c'è bisogno abbiamo comunque le guide sul posto che appunto spiegano tutto in alcuni casi dove ad esempio sono stata già per molte volte conosco il posto alcune delucidazioni, alcune indicazioni ve le do io Dottoressa Zorzi, ma se vengo alla Elux, si scrive Elux, lo dico Simonetta perché l'ha scritto Elux riesci a farmi avere un itinerario per vacanze in bicicletta da fare in Centro Italia? assolutamente sì assolutamente sì abbiamo anche organizzato diverse gitte per chi va in bici appunto anche all'estero tra l'altro assolutamente non c'è problema tra l'altro c'è una ciclovia per esempio che va fino a... dove è? a Graz? sì che tra l'altro diciamo anche in leggera discesa dall'Italia all'Austria e quando si torna se non si vuole andare in leggera salita c'è un treno su cui si può caricare la bicicletta per cui è fantastica io la farei andata a ritorno in treno allora saluti signora Zorzi salutiamo appunto Laura che voleva informazioni sui dentisti croati eventualmente quindi quando è che possiamo ripetere? noi andiamo il 14 maggio e sì sono bravi anche perché io ho 20 anni che li conosco e personalmente ho fatto dei lavori poi tre anni di garanzia non ha... esatto è già una garanzia scusate gioco le parole il Marocco è sicuro vero? a me piacerebbe visitarlo ma non i soliti villaggi ma proprio conoscerlo davvero dice Michele cioè vuole fare una full immersion sì c'è il tour delle città imperiali ad esempio che è molto bello noi adesso ad esempio faremo Marrakesh a fine ottobre è molto molto bello e accompagnerò io questo gruppo siamo già in sei tra l'altro sei donne andiamo tutte alla scoperta di Marrakesh andremo anche in un riad quattro stelle molto bello che sono appunto queste loro strutture molto particolari sono quelle che erano una volta appunto delle ville e lo faremo dal 23 al 26 ottobre sì Marrakesh o Marocco comunque c'è diverse tipologie e non per forza devi andare in villaggio assolutamente assolutamente e poi teniamo conto che il Marocco è estremamente variabile un po' come l'Italia cioè dal nord montuoso esatto al deserto esatto alle pianure verdi e alle belle città alle belle città ai boschi di eucalipti cioè veramente è fantastico assolutamente allora viaggi in pullman e fateci stiamo proprio parlando di questo tra l'altro in particolare abbiamo appunto fatto prima la carellata di tutto fino a settembre che a preavviso si deve dare come dicevo prima dove c'è il volo il quanto prima il discorso con il pullman anche lì chiedo sempre di fare almeno un preavviso di un mese prima vi invito a chiamarmi e comunque di vedere anche sul sito perché c'è tutto quello che sono i nostri viaggi in pullman o in aereo poi saluto Franca penso che non ci siano perché veramente sono proprio last second questo non è anche last minute esatto per Pasqueta c'è qualche last c'è più niente anche già due settimane fa avevo chiamato un sacco di alberghi sia qua in zona sia su quello che era il Trentino sia per il benessere sia per andare a fare comunque due giorni al mare non c'è più niente ma abbiamo esordito prima adesso a parte tutto sono tre giorni che l'autostrada A4 è bloccata dai viaggiatori che stanno raggiungendo varie zone per esempio l'altro ieri si era bloccata interamente per Venezia proprio code lunghe decine di chilometri eccetera e obiettivamente si sta spostando l'Italia esatto si sta spostando Sabrina lei è una bella donna questo messaggio che l'ha arrivato non è firmato ma comunque l'abbiamo letto grazie e allora adesso tra poco ne leggiamo altri vorrei magari tornare a parlare delle vostre offerte gruppi ne avete ancora o parliamo di offerte estate no parliamo di offerte estate ricordo che fino al 30 di aprile c'è l'offerta su quelli che sono villaggi in Italia dalla Puglia a Sardegna Sicilia a Calabria ma anche Basilicata che è tra l'altro molto carino sul mare tutti in olinclusi c'è lo speciale sconto che per chi prenota entro il 30 aprile al 30% di sconto e non è male a febbraio era il 50 difatti abbiamo avuto molte prenotazioni perché c'è stato veramente c'era un risparmio fortissimo adesso andare al 30 aprile è il 30% sì non è poco perché chi l'ha provato l'anno scorso e ha visto che in effetti villaggi 4 stelle molto carini molto belli poi ovviamente io dico sempre perché vado su un punto di evento perché aiuto a fare la scelta anche giusta spiegando quello che possono trovare ma 30% ma per chi invece ama sempre andare all'estero che e quindi vuole prenotare in questi giorni per le proprie vacanze estive abbiamo sconti che vanno dai 200 ai 400 euro a coppia quindi anche qui insomma lo sconto merita c'è la possibilità di fare appunto la settimana o i 15 giorni ma comunque insomma anche qui un sconto a coppia dai 200 ai 400 euro non è male assolutamente assolutamente altro parliamo anche di villaggi? beh villaggi allora come ti dicevo Paolo il discorso che sia in Italia che all'estero abbiamo veramente ottime sostanze abbiamo veramente interessanti prezzi noi andiamo anche a creare su misura quello che è il viaggio proprio ieri ho avuto un cliente che voleva fare anche i 10 giorni quindi andiamo a costruire anche quelli che sono i solo 10 giorni di vacanza questo per l'Italia perché andiamo a prendere i voli di linea ma come dicevi tu giustamente prima prima fate meglio perché poi se mi prenotate magari a luglio per agosto col volo di linea per fare i 10 giorni il prezzo ovviamente lievita vanno sempre più forti anche quelle che sono le capitali europee perché sempre di più mi chiedono di prenotarle oltretutto proprio ieri o l'altro ieri ho messo un messaggio sulla pagina Facebook e l'Axviaggi e Turismo che vi invito a mettere mi piace per seguirci lì ho chiesto appunto chi vuole venire a Lisbona perché mi piacerebbe organizzare anche qualcosa a Lisbona sono appena tornata da Barcellona che ormai sono 12 volte che ci vado ma è sempre io la adoro Barcellona quindi anche chi vuole fare quei 2-3 giorni nelle capitali europee mi contatti perché posso dare le giuste indicazioni di dove andare e cosa visitare io spesso e volentieri faccio anche queste gite ma oltre a fare queste gite conosco proprio quello che può essere Londra, Parigi, Amsterdam, Barcellona, Madrid adesso volevo appunto portare magari con me perché ripeto quando noi andiamo via comunque in gruppo ci divertiamo perché andiamo a scoprire quelle che sono i gusti andiamo a vedere quelle che sono le particolarità del posto quindi insomma non è che è solo una gitta meramente culturale dove spieghi per filo e per segno quello che è il monumento no assolutamente c'è anche quello che è con le guide esperte ma io scopro anche vado a scoprire anche quelle che sono i cibi o le usanze del posto quindi stiamo pensando appunto a un... se ti piace il pesce il paradiso è il portogallo per questo per cui assolutamente anche perché a parte l'oceano hanno solo montagne ma non aspre di più per cui insomma allora lei organizza udienze col Papa come si fa? grazie Fabri mi piacerebbe dare la mano al Papa a Papa Francesco grazie l'abbiamo ne abbiamo fatto per almeno insomma siamo andati in udienza dal Papa almeno quattro volte quest'anno non l'ho non l'ho ancora programmato comunque si organizzo le udienze dal Papa non è così difficile prendergli la mano anzi ricordo che un anno i nostri i ragazzini i bambini che erano con noi sono stati addirittura presi da lui e portati all'interno di questa chiesetta dove lui andava a fare questa messa e quindi hanno proprio l'hanno toccato proprio con mano ma l'hanno anche abbracciato sì vediamo di magari pensarci per un ottobre insomma allora Santiago di Compostella invece momento spirituale questo una vita che non ci vado mi ci porta chiede Stefano ma anche lì sono in tanti che mi stanno chiedendo di appunto fare questa cosa di accompagnarvi di fare questo questo cammino lo sto pensando ma lo sto pensando per un 2018 anche quest'anno anche delle amiche che ci andranno partono tra un mese ci penserò per il 2018 sì mi piace questa questa cosa è già un anno che ci penso quest'anno per aver già inserito quelli che erano il discorso Budapest o Monaco e tutto non c'era la possibilità di inserirlo l'anno prossimo sarà la prima cosa a cui penso allora si può andare in Africa assolutamente sì assolutamente Maldive c'è ancora posto chiedono dipende per quando però sì poi chiedono anche ci sono delle escursioni per le grotte di Castiglione presumo sia la Castiglione sotterranea sì presumo anch'io ne ho sentito parlare al momento credo che non se ne faccia niente vediamo allora poi un altro messaggio visto che siamo addirittura d'arrivo preparate carta e penna che adesso diamo le coordinate per la Elacs Viaggi ciao Sabrina sei sempre bellissima e bravissima grazie questo è un altro messaggio appunto che è arrivato grazie grazie visto che siamo in chiusura noi ringraziando Sabrina Zorzi che è la titolare della Elacs è accentato Lux Viaggi di Piazza Dallò a Castiglione diamo le coordinate per allora il sito è eluxviaggi.com empoli livorno udine x viaggi.com il numero di telefono è 0376 636798 rispondo anche al numero su whatsapp al 348 25 28 71 vado su appuntamento mi raccomando ma proprio per darvi la migliore garanzia e che dirvi buona Pasqua buona Pasqua a tutti comunque sia anche se non ci sono la sminuto la secco mi raccomando andate fuori porta fate una gita e andate sempre a scoprire anche qua vicino abbiamo delle meraviglie in extremis arriva scusi intendevo la promozione che ho visto sul volantino ah no ma quella era di gennaio era di gennaio quindi passato andato grazie e buona Pasqua grazie a voi a Sabrina Zorzi grazie un rezzajo